Ciao, io sono Lavinia Longhi e interpreto il ruolo di Cheyenne, una donna di origine italiana. Era la prima volta che mi capitava di recitare in francese, anche se poi per ironia della sorte ho dovuto dubbiare tutto il lavoro in italiano. Che cosa dire? Questa sono io, è naturale, questa è la mia casa e invece Cheyenne è una donna un po' diversa. Stavo pensando, lo fai sempre così? Così come? Sì, sembri annoiata. Al tuo giurista? Mi sa che non piace a me. È misteriosa, è un po' complicata, ha un doloroso passato alle spalle e compie un percorso. All'interno di questo percorso scoprirà l'amore e grazie all'amore forse tutto si rende un po' più semplice. Sì, ciao signorina. Deato quel vestito che fiaccherezza la pelle. Ho detto forse. Dovete seguire la serie per scoprirlo e perché è bellissima.